Possiamo dire che c'è un clima di antisemitismo nascente in Italia? Non nascente, un clima di antisemitismo che è stato sopito per alcuni decenni, ma che c'è sempre stato e che torna in maniera carsica. In questo momento c'è un gioco terribile di strumentalizzazioni politiche e faziose ai danni del popolo ebraico, ai danni dello Stato di Israele, ai danni dei cittadini israeliani per una terribile vicenda, ma che è una vicenda politica di un altro Stato, che non deve riguardare gli ebrei italiani e il loro posto in Italia e nella storia.